Scenario difficile per D'Amico nell'ultimo biennio, anche per effetto un po' della crisi petrolifera. L'ipotesi di guerra commerciale alimentata dai dasi USA non rischia di deteriorare le progressive ottimistiche da voi recentemente delineate? No, non penso perché il traffico di prodotti petroliferi alla fine è abbastanza bilanciato, quindi è un traffico internazionale e non vedo come possa essere parte, non è dove c'è uno sbilancio molto forte, quindi gli Stati Uniti sono anche grossi esportatori adesso sia di greggio che di prodotti, quindi è una cosa abbastanza pareggiata penso tutto sommato, quindi è di interesse strategico anche gli Stati Uniti avere accesso a prodotti che vengano dall'estero. Grazie